Gentili telespettatori, buona giornata. I sindacati Landini, CGL, dicono che adesso faranno sciopero fino a quando il governo non vorrà intervenire sugli stipendi. E il governo dice che i sindacati devono intervenire sugli stipendi. Quindi c'è questo rimbalzo. I sindacati dicono che il governo deve intervenire sugli stipendi e il governo dice che i sindacati devono intervenire sugli stipendi. Chi deve intervenire sugli stipendi? Non c'è una legge scritta, in Costituzione non c'è scritto chi deve intervenire sugli stipendi. Ma intervenire per che cosa? Beh, ne abbiamo parlato fino alla nausea, ognuno avrà le sue idee. Ma realmente dobbiamo fare delle valutazioni corrette, apartitiche, delle valutazioni che sono al di fuori della classificazione, muri ideologici, centrodestra, centrosinistra, no? Allora, che cosa succede? Sapete che in Europa 22 paesi su 27 hanno il salario minimo, non sono falliti, le aziende non sono fallite, addirittura l'Europa si sta mettendo d'accordo in questi 22 paesi per mettere un criterio comune per capire qual è il salario giusto, minimo, perché il salario minimo in Germania non è uguale a quello in Spagna, non deve essere uguale, ogni paese ha le sue caratteristiche, quindi il salario minimo poi va ogni anno, tipo scala mobile, aggiornato, non solo in base all'inflazione, ma in base a tanti. Quindi i 22 paesi in Europa che hanno il salario minimo stanno già facendo delle evoluzioni sul tema, cercando di capire come realmente farlo diventare un salario che sia al di sopra della soglia di povertà. La teoria qual è? Chi lavora non può essere povero, che è sempre quello che dico ai miei alunni. Un lavoratore per definizione non dovrebbe essere povero, non deve essere povero. Il povero può essere chi non lavora, ma chi lavora deve essere non povero. Invece in Italia, come nei paesi in via di sviluppo, quelli del terzo mondo, Italia è uguale, una gran parte dei lavoratori è in povertà lavorativa, cioè lavora ed è povero, perché lavora ma non ha diritti a una paga che è al di sotto del livello minimo, stipendi con i quali non puoi neanche pagarti un affitto a Milano, a Roma, a Bologna, eccetera, eccetera. Questo per farvi capire, se uno non può pagarsi in affitto vuol dire che è in povertà e che quello stipendio non è adeguato. La Meloni, il governo, che cosa dicono? Noi sistemiamo il cuneo fiscale, cioè abbassiamo la tassazione sul lavoro a livello europeo e in questi cinque anni la tassazione media arriverà a quella a livello europeo. Quindi si abbasserà perché noi l'avevamo più alta della media europea. Ma quello comporta un aumento, su uno stipendio di mille euro comporta un aumento di 30 euro, cioè avrete 30 euro in più in tasca ogni mese, quando in questi quattro anni e mezzo il cuneo fiscale sarà a livello europeo. Ovviamente non è sufficiente. La Meloni dice che lo Stato fa la sua parte, adesso i sindacati devono, assieme alle aziende, mettersi d'accordo per un salario minimo che è praticamente il primo livello di ingresso. Sapete che c'è primo livello, secondo livello, poi in altri settori si parte dal contrario, sesto, quinto, quarto, terzo. Comunque, il livello d'entrata, quello con lo stipendio più basso, lì è quello il salario minimo. Quello deve essere un salario sufficientemente adeguato per la vita nel 2023. Ma, se voi andate a guardare molti contratti nazionali, non si arriva a 1500 euro lordi, si va intorno ai 1000, 1100, 1050, che sono stipendi poveri, anche se nessuno vuole ammettere di essere un povero, se uno prende 1050 euro lordi al mese è un povero, anche se poi va con la maglietta firmata, comprata nella bancarella dei falsi e magari utilizza la macchina del papà e vuol sentirsi benestante alla fine con uno stipendio di quelli. Potete fare tutte le pirouette che volete, potete mettervi tutti i vestiti griffati falsi, comprati in spiaggia o nei mercatini il mercoledì, ma capisco la voglia di sentirsi, ma c'è un italiano su cinque che è un lavoratore povero, in povertà lavorativa, ma nessuno lo ammette ovviamente, nessuno si autodefinisce povero. Ma il sindacato, cosa succede? Il sindacato sta alzando bandiera bianca, il sindacato è nell'impossibilità di trovare accordi con le aziende per far salire quei salari a un minimo decente, perché la proposta dei 5 Stelle di 5-6 anni fa era di mettere 9 euro lordi l'ora, che diventano 1.500 euro lordi al mese, quello era il salario minimo proposto dai grillini 6 anni fa, oggi ovviamente non sarebbe più adeguata quella cifra, ma oggi con tutta l'inflazione che c'è stata dovrebbe essere non meno di 2.000 euro lordi, che poi parliamo di 1.500 netti, ecco il salario minimo dovrebbe essere 1.500 euro netti, non 1.050 euro lordi, solo che i sindacati sanno perfettamente che con le aziende non potranno mai raggiungere e far fare un balzo agli stipendi bassi da 1.000 a 1.500 a 2.000, raddoppiare gli stipendi bassi. Il sindacato non lo può fare e quindi solleva bandiera bianca e dice faremo scioperi fino a quando il governo non sistemerà i salari. Cosa vuol dire? Il sindacato sta chiedendo al governo di intervenire perché praticamente sta facendo capire al governo guardate che noi non possiamo andare dall'imprenditore o dall'associazione di categorie e dire guarda che gli stipendi vanno raddoppiati perché non li fanno neanche parlare, si alzano e se ne vanno. Ecco, già è difficile fargli fare fare agli imprenditori gli aumenti contrattuali quelli che aspettano ogni anno, ogni due anni e slittano i contratti nazionali in ritardo in accordo con i sindacati chiaramente. Quindi se già i sindacati sono d'accordo con le imprese per far slittare quello che è l'incremento con l'inflazione, figuratevi se il sindacato ha la forza di fare raddoppiare gli stipendi bassi. È impossibile. Quindi il sindacato si arrende e dice governo pensaci tu, metti un salario minimo per legge come in quasi tutta Europa e io sono assolutamente d'accordo, anch'io chiedo al Presidente del Consiglio di ripensare a questo salario minimo e fare una cosa veramente eccezionale, quella di mettere un salario minimo per legge e tirar fuori dalla povertà lavorativa a milioni di persone. Lei lo può fare, lo può fare, lo può fare e dipende come lei valuterà questo. Se lo valuta come una sconfitta, cedere alla sinistra, cedere ai sindacati, ma qui si parla del bene del paese, senza muri ideologici lei dovrebbe dire sì avete ragione bisogna alzarlo per legge, questa è la legge, pronti via. Questa sarebbe una cosa che gli farebbe guadagnare altri 10 punti percentuali e arriverebbe al 40%. Lo valuti Presidente del Consiglio, lo valuti questo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.